E saranno invece esposte fino al 28 giugno le opere d'arte di Luca Melzi. Vediamo. Le emozioni di Luca Melzi, rappresentate attraverso bicchieri e calici, andate in frantumi e trasformati dall'artista monzese in deliziose opere d'arte. Fino al 28 giugno sarà possibile visitare gratuitamente al negozio Oriente Antico di Via Bergamo una mostra itinerante ed in continua evoluzione. Un allestimento originale, nato dalla duplice passione di Melzi. Da una parte la città di Venezia, capitale del vetro e delle luci sfumature dell'acqua. Dall'altra la cantante Mina, sua musa ispiratrice. Una mostra che nasce dal maldestro artista che mandando più volte in frantumi servizi di bicchieri e calici in cristallo ha deciso di raccoglierne i cocci e con grande fantasia ne ha realizzato opere d'arte dove a farla da padrone sono le sfumature cromatiche e di materiale. Quasi una trentina di pezzi tutti riciclati, quelli che sono visibili attualmente nel negozio monzese affiancati da una serie di bottiglie che Melzi ha rivisitato trasformandole e caricandole del suo gusto e delle sue emozioni. La mostra proseguirà poi fino alla fine dell'anno con diverse tappe nei negozi più esclusivi della città ampliandosi di volta in volta con nuovi pezzi che l'estroso artista di giorno impiegato in un'azienda brianzola già sta realizzando. L'evento è stato organizzato in collaborazione con l'associazione culturale Berenice. Grazie.